I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa hanno arrestato due giovani per detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari avevano notato strani movimenti nei pressi di un'abitazione del centro, in una piccola strada vicino a Piazza degli Studi. Dopo giorni di appostamenti e monitoraggio dei movimenti sospetti, i militari sono entrati in azione. Quando un ragazzo non identificato si è allontanato in fretta dall'appartamento, due militari in borghese hanno fatto irruzione forzando la resistenza di un uomo all'interno. Dentro vi era un uomo algerino di 34 anni, un suo connazionale di 26 anni, entrambi residenti a Santa Croce, già noti alle forze dell'ordine. Sul tavolo del monolocale c'erano un coltello, della carta stagnola e diverse banconote. Per terra un tocchetto di hashish. Per l'algerino, 34enne, scattato l'obbligo di firma in caserma. Per l'altro giovane, che non avrebbe avuto un ruolo nello spaccio, ma avrebbe solo tentato di impedire l'ingresso dei militari, è stato poi rimesso in libertà.